Il Bellizzi ha dato il ben servito al tecnico Lugo Di Rienzo. Dopo la partenza tutt'altro che positiva, l'ex allenatore del Frigente è stato sollevato dall'incarico in seguito al K.O. subito sul campo del Manocalzati. Un punto, tre gol fatti e nove subiti in tre gare di campionato. Al suo posto, Angelo Quaglia di Giffoni sei casali. Allenato in passata anche il Salerno un Baronissi, il Ponte Cagnano, il Serre, l'Agropoli e la Battipaiese. Toccherà a lui far rinascere il Bellizzi già dal match interno contro il Cimitile. Nel frattempo, colpo per il San Martino che ha ingaggiato Patrizio Mennella. Napoletano classe 2000, si tratta di un centrocampista di grande temperamento e qualità, tecnico, forte di un curriculum di tutto rispetto, cresciuto nel Sorrento e in seguito militati in eccellenza tra le fila dell'Insieme a Usonia, Eccellenza Laziale e Termoli in Molise. I caudini che hanno perso contro il Strufe in casa cercano rinforzi dal mercato degli svincolati per migliorare la posizione in classifica e abbandonare il terz'ultimo posto in graduatoria.